La città ridotta allo stremo da una parte, la politica sorda ed incapace a risolvere gli stessi problemi che ha creato dall'altra. Gela sedotta e abbandonata da quella politica che continua ad additare Leni come l'unica causa di tutti i mali che attanagliano i gelesi. Gela che invece è semplicemente una bella donna tradita e poi persino violentata dal suo stesso uomo. Non è Leni che ha e non è Leni che l'ha stuprata e abbandonata. Leni è solo uno degli approfittatori di questo territorio che invece il vero tradimento l'ha subito dai suoi stessi figli, dai rappresentanti di loro, da coloro cioè che i cittadini si sono scelti in tutti questi anni per essere tutelati e difesi ed invece da quegli stessi falsi gelesi o se volete gelesi veri ma che di Gela se ne sono altamente fregati sono arrivate le coltellate alle spalle più feroci. Leni è Leni anche a Porto Marghera lo è piuttosto che a Livorno a San Nazaro dei Burgondi ma lì in questi altri siti industriali italiani la stessa Eni non si è comportata in maniera cinica come ha fatto e continua a fare purtroppo a Gela. Perché mai allora se non perché a Gela ha trovato la più scarsa e becera classe politica che potesse augurarsi Leni di trovare. Ma d'altronde molti di loro, molti dei rappresentanti scelti dagli stessi gelesi erano e sono ancora dipendenti dell'Eni, iscritti al libro paga contrattualmente. Altri politici invece pur non essendo dipendenti diretti di Eni nel tempo si sono iscritti ugualmente al libro paga del colosso a cane a sei zampe e mentre accadeva questo la città veniva sistematicamente tradita giorno dopo giorno inesorabilmente. Fino al tragico epilogo di questi giorni con l'atto di morte firmato colpevolmente e senza sé e senza ma il 6 novembre del 2014 al mese di Roma con un protocollo che è la certificazione notarile della resa finale della nostra politica a Leni. Ed ora che come dicono a Catania a Sant'Agata se la sono portata i nostri eroici traditori provano a mettere le grate di ferro laddove non c'è più nulla da difendere o da proteggere. Non restano che le parole parole di sconforto di una città colpita a morte soprattutto dagli stessi figli suoi. Gela oggi avrebbe tutto il diritto di gridare in faccia a questi rappresentanti politici la famosa frase pronunciata da Giulio Cesare in punto di morte. Anche tu brutto figlio mio. Un pensiero che ieri sera ad Agorà un ex lavoratore dell'Indotto Eni ha in effetti reso pubblico. Quindi la città oggi è stata custodita o devastata. Quindi noi cosa dobbiamo chiedere? Non io lavoratore soltanto. La città di Gela. I cittadini di Gela. Quindi non dobbiamo chiedere noi soltanto il lavoro. Noi stiamo facendo passare oggi lavoro, lavoro, lavoro. Abbiamo i diritti pure. La città non io singolo lavoratore. La città. E questo è bene che la politica lo debba tenere in conto. È una cosa che riguarda la città anche voi. Andate a mare e mangiate un pesce fresco. Con il conduttore in studio, quattro ex lavoratori dell'Indotto che protestano pacificamente da oltre 20 giorni e poi il parterre centrale formato da politici attuali e della passata consigliatura. Politici per lo più di estrazione PD, ossia di quel partito che più di tutti ha massacrato e purtroppo continua a massacrare questa città. Con Renzi e Crocetta, principali protagonisti del massacro, ma con tanti altri comprimari a recitare magnificamente la parte. Chi volesse rivedere questa puntata di Agora con il ritorno della scheda di Giulio Cordaro dal titolo Fuori dal Coro, potrà farlo domani sera con la replica integrale che andrà in onda alle ore 21 su Canale 10, oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10, dove la registrazione della trasmissione sarà caricata a partire dalle prossime ore. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con ospiti ed argomenti che interessano Gela e Digelesi.